calegnaia 20 agosto 2019 bella giornata di sole e di mare mare calmo acqua calda tanto sole purtroppo c'era nella baia un'invasione galattica di meduse di belle bianche un'invasione di meduse a forma di patatina fritta bianca albina che non ustionavano ma pizzicavano leggermente la pelle rendendo gelatinoso praticamente il nuotare all'interno della baia